Farà tappa nel comune di Mondolfo il punto vaccinale mobile organizzato da Regione Marche e Asur che domani venerdì 20 agosto arriverà sul lungomare nei pressi del molo di Marotta. Il camper sarà attivo dalle ore 18 alle 22 e sarà possibile vaccinarsi senza bisogno di prenotazione per tutte le persone di età superiore a 12 anni che non abbiano ancora ricevuto la prima dose. Sarà sufficiente presentarsi al punto vaccinale mobile muniti di tessera sanitaria e documento di identità. I minorenni dovranno essere accompagnati. Ringrazio Regione Marche e Asur per questa importante iniziativa finalizzata a recuperare fasce di popolazione non ancora vaccinata. Al momento della vaccinazione è preferibile portare con sé i moduli A, B, C, D scaricabili sul sito del comune di Mondolfo precedentemente compilati e firmati, mentre per chi è impossibilitato a stampare la modulistica necessaria grazie all'aiuto dei volontari della protezione civile FA di Bruno e della Croce Rossa comitato di Marotta Mondolfo sarà possibile compilare le schede direttamente presso il punto vaccinale. Il camper attrezzato si sposterà il 23 agosto a Tavuglia per poi proseguire la campagna itinerante per la somministrazione del vaccino anti-covid nel territorio dell'area Vasta 1. Invitiamo cittadini e turisti a non perdere questa opportunità per contribuire a contrastare la pandemia con la speranza di tornare presto alla normalità.